Signorina, ma dobbiamo aspettare ancora molto questo passeggero in ritardo? No, si è appena imbarcato. Oddio, oddio, mi scusi, ho fatto male. Non fa niente, non è colpa sua. Così. Chi non viaggia in compagnia? Che sono il suo che ci fia. Che ha detto? Niente, niente. Ma allora che si fa qua? Ficcome ho visto che ci teneva a fare il viaggio insieme. Eh, da morire. Ero in coda per vedere se c'era un posto sul suo volo. E non ci crederà quello di fianco a me se è sentito male. C'è credo, c'è credo. E finché fortuna, ero proprio su questo volo. Eh, gran culo. Nel posto, di fianco al fuo. Bene, benissimo. Buongiorno, è il comandante Luca Relli che vi parla. Purtroppo le condizioni meteorologiche previste sulla nostra rotta sono critiche. Incontreremo venti a raffica, cumuli temporaleschi e rovesci improvvisi che potrebbero causare violenti vuoti d'aria. C'è tua. Siamo parlando sempre di seppetta salvati dal fuoco del fulmino da sette.